Ciao a tutti, questa sera parliamo velocemente del saldo e stralcio, perché abbiamo visto che sul sito internet è gettonatissimo, non so se guardate i risultati ma siamo sorpresi anche noi da come stanno fioccando gli accordi con le banche, i motivi del perché funzionano questi accordi è, mi permetto di dire, anche perché ormai abbiamo generato una grande esperienza e quindi conosciamo bene la materia, ci siamo anche accorti che c'è una grande difficoltà da parte delle banche e delle finanziarie a gestire le contestazioni che vengono loro mosse e questa carenza di denaro che anche questa ci sta dando una grande mano e un grande aiuto. Vorrei condividere con voi tre piccoli passi, il primo passo è cosa fare per gestire bene un saldo e stralcio e devo dire che la prima cosa importante da fare è mettere in porta un buon e bravo portiere, questo portiere si chiama notifica, quando decidete di smettere di pagare o semplicemente non potete più pagare il primo passo non è fare come gli struzzi e mettere la testa sotto, piangere, strappare i capelli, non posso neanche fare il gesto io, il primo passo è notificare la controparte che vi siete informati. Il primo passo è la notifica, notificare la controparte che sapete che esiste un articolo che è il numero 119 del testo unico bancario che vi dà dei diritti, il diritto di chiedere tutti i documenti che ritenete necessari per controllare che la banca abbia operato bene. Questo è devastante per la banca, credetemi è devastante perché la banca quando vi risponderà o ci risponderà se ha dato un incarico a noi o un altro professionista o un'altra associazione, scoprirete che non vi manda tutti i documenti, ve ne manda solo una parte. Come mai? Rispondetevi da soli. Nella realtà la notifica è quello strumento che ci permette di evitare il decreto ingiuntivo, la causa in tribunale, è quello strumento che ci permette di dormire calmi e tranquilli, di muoverci bene, di prendere il tempo che ci serve. Una buona notifica è completa di tutti i documenti, elenco di cui abbiamo bisogno. Perché chiediamo tutti questi documenti? Perché è indispensabile poter controllare tutta la documentale e verificare, perché tanto c'è all'interno del contratto, e poter verificare, documentare e evidenziare dove la banca ha sbagliato questo contratto. Il gioco è fatto. Nel momento stesso in cui troviamo l'errore all'interno del contratto, è meglio smettere di pagare, perché tanto se il contratto è sbagliato, il codice civile ci dà l'opportunità di fermarci. Bene, seconda notifica. Cara banca, ho trovato un errore, articolo 1460 del codice civile, tu hai sbagliato e io non ti pago più. Parliamone in un'aula di tribunale o se preferisci parliamone a saldo e stralcio. Funziona proprio così. Trovare l'errore, predisporre una perizia, notificare la banca o la finanziaria, dov'è l'errore. Magicamente non fanno più causa. Sì, daranno incarico a questi tre step di tre società differenti. Io sono un ex malandrino, ho vissuto tanti anni in banca, quindi so che ci sono tre step differenti per l'azione di recupero del credito. Qui viene messa a dura prova la forza della famiglia per resistere a questi professionisti dell'azione di recupero. Non ci possiamo fare niente. Ci sono e molti sono garbati, molto sono fantasiosi, altri sono anche violenti e aggressivi. Fondamentalmente è un percorso obbligato, ma appena terminano queste società di recupero del credito, a quel punto eccoci qua, siamo pronti con la controparte a chiudere a saldo e stralcio. I risultati? Siamo sorprese, perché noi pensavamo di chiudere al 50%, 60%, 70%, però un debito da 30.000 euro farò diventare 20.000 euro, erano 10.000 euro di sconto, insomma 10.000 euro non si trovano nel cassetto, magari aprissi il cassetto qua sotto e trovassi 10.000 euro. Oggi i saldi e stralci sono, ti devo 30.000 euro, te ne do 5, 6, 7, a rate, neanche in contanti. E le banche stanno accettando. Stanno accettando perché il sistema bancario è oramai la nuova delinquenza organizzata, perché sanno che hanno fatto dei contratti e ci hanno derubato, non perché sono gentili e generosi, non perché noi siamo bravi e abbiamo maturato una grande esperienza nel saldo e stralcio. Accettano perché non vogliono andare in tribunale, perché se sanno che voi siete pronti a difendervi con gli argomenti giusti, per loro il tribunale è un posto pericoloso. Imparate insieme a noi a utilizzare il saldo e stralcio. Scoprirete che avete dei non debiti. Buona serata a tutti e grazie per avermi ascoltato.